Sia l'ho dato Gesù Cristo, un saluto a voi carissimo, a voi che ascoltate. E Gesù dice oggi a noi, come ai Suoi discepoli un tempo, beati voi, beati voi poveri, beati voi affamati, beati voi assettati, sarete saziati, beati voi che siete perseguitati, che siete infamati a causa del mio nome, perché grande è la ricompensa del Regno dei Cieli. È chiaro che la beatitudine non consiste nell'essere felici qui sulla Terra, soprattutto quando la povertà e ogni tipo di bisogno ci attanaglia e quando c'è una persecuzione che non ci lascia mai fatta di uomini che sono ingiusti e lo fanno a causa del nome di Gesù. Uomini ingiusti che rappresentano anche coloro che sono al potere. La ricchezza infatti è facilmente associata nel Vangelo, così come nella prassi di ogni tempo, ha un potere condiviso con pochi che crea uno spirito di idolatria all'interno del cuore di chi lo possiede e pretende di determinare la vita, la morte, la verità e la falsità su questo mondo. Infatti, Gesù dice, perseguitavano e perseguiteranno anche voi. Facevano così anche con i profeti. Vette voi dunque, perché siete seguaci del Cristo, povero, casto, obbediente al Padre. E per questo siete come un pungolo in chi vive nello spirito contrario e si fa forte della propria ricchezza, del potere condiviso, delle conoscenze, delle possibilità. costoro vogliono determinare la propria vita a dispetto della verità, della giustizia, verso Dio, verso gli uomini. Per questo perseguiteranno voi, perché voi siete come i profeti, cioè testimoni di una verità alta, che è il regno dei cieli, un regno di giustizia, un regno di pace, un regno dove non esiste conflitto perché non esiste più la possibilità dello spazio dato all'egoismo, dato alla prepotenza, dato all'arroganza. Guai a voi ricchi, perché avete già avuto la vostra sazietà su questa terra. Guai a voi quando diranno bene tutti quanti di voi, perché questo facevano i loro falsi profeti un tempo, questo faranno con voi. I falsi profeti sono coloro che si prospettano, si presentano come le guide del mondo di oggi, coloro che danno giudizi sulla politica, sull'economia, sui destini del mondo, sui destini dell'universo, sulle finalità dell'uomo, sul valore delle cose, dicendo che il mondo del potere, delle possibilità, del controllo assoluto su tutte le cose e sugli uomini è quello che dà sicurezza e non finirà. Sono negatori costoro del regno di Dio, sono affermatori del regno sulla terra, ma sono falsi profeti. Tutto ci verrà tolto, tutto finirà e tutto sarà ricompensato a seconda di quello che abbiamo considerato qui sulla terra, davanti a Dio, di fronte a Dio, sotto il suo cielo, sotto il suo sguardo. Veri profeti perseguitati, falsi profeti, va tutto bene, siamo i vincenti, il nostro pensiero è quello giusto, chi non è capace di seguirci, di essere con noi, non merita altro che di essere sfruttato o eliminato. falsi profeti, di una falsa umanità, di un falso destino. E il nostro mondo sta vivendo questo, un mondo sempre più allargato nelle masse di poveri, sfruttati, e sempre più limitato nel numero di coloro che controllano il mondo e decidono chi è Dio, cosa è Dio, che cosa bisogna seguire, chi siamo o soprattutto che cosa valiamo o cosa non valiamo. Se è meglio metterci subito a morte con l'eutanasia, chi fare vivere, chi esaltare, chi usare e chi non. Alla fine, nella grande illusione, ed è questa la grande falsa profezia, che ognuno di noi è in grado di scrivere un proprio destino. Dalla nascita decidere chi, alla morte decidere chi, come e quando, e ci inculcano questa idea che noi siamo padroni della nostra vita qui sulla Terra e del resto non conta più nulla. Noi affermiamo invece la sottomissione a Dio, alla sua volontà, alla legge dell'amore, alla legge della verità, alla legge della purezza, alla vita eterna. Un mondo che dobbiamo conquistare qui e qui vanno tutti quanti i segni della pace, i segni della concordia, i segni dell'amore, perché ci vengono da Dio. e con questi segni, grazie al Cristo che ci ha aperto le porte al suo regno col perdono dei nostri peccati, quello che facciamo di buono con Lui e in Lui col suo spirito vale per l'ingresso della vita eterna. Ne vale la pena anche se ora siamo tormentati, infamati, mentre invece i falsi nomi vengono glorificati qui sulla Terra. ne vale la pena perché Gesù ci dice che oggi noi siamo già beati con Lui nel profondo del nostro cuore con la certezza che il mondo non possiede. Dio vi benedica.